Allora, ragazzi, vi ricordate il finale che abbiamo vissuto con The Last of Us e Left Behind? Le discussioni che abbiamo fatto, le chiacchierate che abbiamo affrontato dopo che tra l'altro avevo già finito a un certo punto la parte 2? Beh, queste dirette saranno molto speciali. Farò di tutto per renderle tali. Allora, nonostante io sia su Twitch, ragazzi, cercherò di darvi un'esperienza non più totalmente congruente a quella di YouTube come stavo pensando, a causa di quello che sta succedendo fuori da qui. Ma più vicina rispetto alla classica streaming. Non si dice così. Classica stream. Ok? Quindi il mio obiettivo è questo e farò un'introduzione anche dedicata a chi sta moderando la chat. Piccola sintesi di quello che sta per succedere. Ok? Farò una run di analisi che non sia spoiler, ovviamente, non anticiperò nessun evento e sarò quanto più possibile dentro l'ambientazione della storia immergendomi nell'opera senza interagire con voi in chat o con chi sta guardando su YouTube senza interagire con loro, salvo i momenti in cui interromperò il gameplay per dedicarmi a loro una decina di minuti. Soprattutto nel finale delle live. Parleremo di tutto quello che è stato già discusso nella parte 1, evolvendolo a quello che è il presente. E per quanto riguarda, purtroppo, una conseguenza che avrà questo nei confronti dei vostri doni, del vostro supporto, ho deciso di nascondere i bit e le iscrizioni, perché potrebbero nascondere messaggi spoiler. A questo riguardo chiedo ai moderatori una cosa importante. E questo è anche un avviso perentorio per tutti voi. Se fate spoiler incidentali, o se putacaso esagerate nel fare occhiolino occhiolino per chissà qualcosa, potreste venire sospesi come sempre. Succede, non preoccupatevi, nel caso perdete dieci minuti di chat, ma evitiamo un macello, specialmente perché qualcuno potrebbe farlo con malizia. Altrimenti cercate di mentire, cercate di essere parte dell'esperienza come la sarò io. Seconda cosa, se invece spoilerate in maniera netta e chiaramente maliziosa, probabilmente questo accadrà a chi non mi segue, chi non fa parte della community e viene qua solo per farlo, non ci sarà alcun tipo di tolleranza. Chiedo anche ai moderatori di fare insta-ban, cioè ban immediatamente. Non sospensione, non kick. Ban. Fine. Basta. Perché questo vale per qualunque cosa, come valeva per The Phantom Pain, come valeva per certe cose. Ok? In quel caso, se è un incidente, o se uno è un pochino scherzoso ed esagera, d'accordo. Nessun problema. Non bisogna essere troppo rigidi. Però, ecco. Ok? Ora. Voglio fare un sondaggio con voi. Voglio che siete voi a decidere per me, così che decidiate voi la vostra esperienza, perché è una cosa molto diversa e, ragazzi, è per me cruciale che la decidiate voi, perché siete i protagonisti qui. Allora. Vorrei che voi decidiate, non la lingua, quella è stata decisa, bensì la difficoltà a cui lo giocherò. Perché avete tre scelte che vi darò adesso a schermo. Ah, e tranquilli, ragazzi. The Last of Us parte 2 sostituisce Kingdom Hearts finché non è finito. Quindi. Non c'è fretta. Lo giocheremo anche domani. Lo giocheremo anche lunedì. Lo giocheremo anche martedì. Quindi, me la voglio prendere comoda, nessuna fretta, e lo giocherò persino con completismo insieme. Non completismo d'hardcore gamer, ma di esplorazione. Quindi con calma. Non c'è nessuna fretta. Voglio che l'esperienza in fine del gioco, che non l'ho fatto io, vi piaccia o meno, che la mia partecipazione al condividervela sia il meglio possibile. Le tre scelte saranno queste. Ah, con che stile giocare e condividere The Last of Us parte 2. Ok. Sono queste. La prima sarà story mode. Facile. Non molto facile, perché a quel punto è anche una violenza nei confronti del gioco. As Intended. Ok. As Intended. Ossia, normale. E poi, Hardcore. In cui potrebbero esserci fallimenti, sconfitte, ma il gameplay è un pochino più tosto. Il casino dei tasti è una cosa voluta, eh. Ho la tastiera meccanica vicino al microfono, mi piace. Oppure, Hardcore. Difficile. Con una modifica, perché mi piace moltissimo l'intelligenza artificiale, come l'ho detto, l'intelligenza artificiale dei nostri alleati di trama. Perché, se giochiamo a difficile, voglio mettere a intelligenza normale le IA alleate. Perché più vai sul difficile, più le rendono stupide per renderti il gioco più difficile. Comunque, queste sono le tre difficoltà, perché poi ci sarebbe il vero Hardcore Plus Challenge che è sopravvissuto, eccetera, e quello non va bene. È una cosa che non si può fare in una condivisione d'analisi. E ricordatevi che il voto 1 è facile, il voto 2 è normale, il voto 3 è difficile. Siate sinceri, non preoccupatevi, qualunque sia la vittoria, io non metterò bocca e cambierò il mio metodo di gioco in base alla vostra scelta. Siete i protagonisti? Oggi e per questa serie io voglio assolutamente darvi il top. Il top. Sarà bellissimo analizzare quest'opera, nonostante tutto quello che ci sta succedendo intorno, nel suo bene e nel suo male. Oh, interessante. Mi piace che vi piacciono i videogiochi. Facile è stato escluso, ora è una sfida fra normale e difficile. Ancora un minuto. Non serve. È chiaramente deciso. Signori e signori, il sondaggio è finito. Grazie per aver votato e... Grazie. Mr. Rappaltini ha donato 20 sub per festeggiare l'inizio della serie e creare un hype trend di massimo livello. Allora, spero vi faccia piacere il suo dono come ha fatto piacere a me. Sei stato meraviglioso e hai fatto un investimento, oltre che un gran regalo. Grazie di cuore. Ora. Devo cercare di forzarmi ad essere meno streamer del solito e concentrarmi. Per voi. Ok? Storia. Nuova partita. Per chi pretende una vera sfida. Le risorse scarseggiano e i nemici sono più pericolosi. Non vedo l'ora di mostrarvi le opzioni di gioco una volta arrivati al punto. Ma ragazzi, io vorrei dirvi una cosa. Spero che tanti di voi siate in blind. Siano in blind e tanti di voi abbiano seguito la mia serie su The Last of Us. Questo è il suo continuo. Parleremo episodio dopo episodio di cosa mi ha emozionato, che cosa no, ma solo quando arriveremo in quelle parti. Nessuno spoiler. Ok? Nessuno spoiler, ragazzi. Ci siamo. La prima cosa che voglio dirvi è che aspettavo tantissimo di potervi rivelare in The Last of Us Parte 2 è proprio il caricamento. Vedete cosa sono? Falene. Non lucciole. E questo è un simbolo importantissimo. Ne riparleremo. Ci siamo. Benvenuti nell'analisi di parte 2. Anche se sarà molto una gameplay run giocata difficile. Ed ecco un'altra falena. Non so cosa è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno... voleva che la sua immunità non fosse inutile. forse iniziavo anch'io a credere... a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. e grazie a lei... avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo... l'avrebbe uccisa. Dottore! Non puoi portarla via. Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. L'ho salvata. Capite le uccite! Non lasciatelo scappare! Aspetta! Maledizione. Maledizione. Beh... È un bel casino. È un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che... che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? a quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. ... Grazie a tutti. Allora, vi metto i sottotitoli per chi ha magari volumi più bassi e iniziamo già a parlare di quello che abbiamo visto. Una meraviglia. Un riassunto del primo The Last of Us con tra l'altro una presunta risposta a quel finale sospeso. Con tra l'altro un'evoluzione grafica che sembra contemporaneamente invisibile e inimmaginabile. Perché il primo era graficamente incredibile grazie alla nostra cara remaster. E allo stesso tempo c'è un intero salto generazionale tutto compresso in un solo momento. E si percepisce tanto. Si percepisce tantissimo. Ed è esattamente come se avessimo tagliato dal finale di parte 1 e ci fosse un attacco alla sua seconda parte. Che capirete molto meglio appena supereremo questo riassunto e arriveremo al prossimo cartello a schermo. Tra l'altro è possibile modificare le opzioni in maniere incredibili. Scusate se ho ripetuto incredibile troppe volte. Ma solo qui mi metterò a farlo. Facendovi vedere le potenzialità per poi non farlo più. Left Behind è stato il nostro intervallo al cinema. E allo stesso tempo sarà mia intenzione ogni tanto fermarmi e parlare con voi. Analizzando quello che abbiamo visto e quello che abbiamo affrontato. Parlando della difficoltà, guardate che meraviglia poter variare ogni singola componente. Le risorse, la furtività, gli alleati, i nemici, il giocatore, resistenza, vulnerabilità, passività, aggressività dell'amico e dell'alleato. La possibilità di essere visti o non visti. Le risorse presenti nelle mappe. Tutto personalizzabile al 100%. Ed è una delle cose più belle che un videogiocatore possa avere da un titolo. È un qualcosa da premiare e da dire sempre, ripetetelo, siete stati bravissimi. Allo stesso tempo mi scuso per chiunque sia molto abituato a Twitch, ma spero che rispetti e apprezzi il mio gesto. Durante questi tipi di contenuto, che sono rarissimi e in questo caso solo The Last of Us l'ha avuto insieme a Meadow Gear Solid, ho deciso di mutare donazioni, bit, iscritti e tutto il resto. In altre parole, avrete tutta l'attenzione e le coccole che meritate per i vostri regali e i vostri bellissimi gesti in quelle pause che prenderò per parlare con voi. Ok? Quello che voglio fare qui è semplicemente rendere gli alleati un pochino più partecipativi. Perché è un peccato non vederne l'intelligenza artificiale. Ma non li renderemo aggressivi o che possano in qualche modo combattere per noi. Devono essere un po' meno di persone. Perché secondo me a intermedio, io l'ho giocato a intermedio per la recensione, diciamo, e a intermedio agiscono comunque poco. Diciamo che diventano, probabilmente diventano persone vere a facile, perché la persona vera diventa molto molto aggressiva ovviamente, e a intermedio abbiamo un ottimo setup personalizzato. Sì, non c'è un attuale scontro. Per il resto, guardate quanto si può cambiare all'interno dell'interfaccia. I reticoli, se averli semplici presenti, oppure incredibilmente potenziati che si colleghino all'avversario e lo seguono per auto-aim. Puoi avere l'auto-aim della Stovas. Non la mira assistita, l'auto-aim. Puoi cambiare i settaggi affinché tu possa giocare con una sola mano. Puoi cambiare i settaggi se sei sordo, se sei daltonico. C'è stato un articolo, tra l'altro questa è una cosa che non posso mettere a prova, ma è stato bellissimo leggerlo, di un giocatore che è riuscito a giocarci essendo cieco. E il fatto che lui possa apprezzare un videogioco da cieco, grazie alla semplificazione del gameplay, che non è una semplice god mode, ma è qualcosa di un pochino più costruito. Andatevi a cercare quell'articolo, è veramente molto interessante. Questo non riguarda tanto tanto The Last of Us. Non era cieco ma ipovedente. Grazie Julux sono importantissime informazioni. In questo caso leggo la chat per poi immergermi nella storia. Non era completamente cieco, però vedeva veramente poco. Ed è veramente interessante, perché non riguarda The Last of Us 2 questo, ma il gaming. Queste cose, è incredibilmente importante visualizzarle come il futuro. Devono essere potenziate e presentate quanto più spesso possibile nello sviluppo del gaming, non soltanto in pochi videogiochi. È preziosissimo. Eh sì, i giornalisti italiani purtroppo hanno messo dei titoli, io non ho aperto gli articoli perché non ho avuto il tempo, grazie della precisazione, ipovedente. Comunque, insomma, è... Fico. Poi abbiamo gli indicatori dei colpi. Tutto è incredibilmente personalizzabile, semplificabile e trasformabile. È fantastico. È fantastico. È veramente bellissimo. Gli avvisi della schivata... Sì, magari per alcune piccole speciali boss fight potremmo inserirli, ma voglio lasciare tutto standard. Tutto standard. Volevo solo farvi vedere, senza andare a leggere una cosa alla volta, quanta roba c'è. Sfocatura a movimento. Si può togliere il motion blur. Non si può togliere la grana. Non si può togliere la grana. Gran peccato. E... Qui abbiamo il top del top. L'ultima cosa che voglio mostrarvi dei menu. L'accessibility. Comandi alternativi. Sulla creazione degli oggetti, l'ascolto che ti permette di potenziare ali, al punto da poter vedere gli oggetti dietro le pareti, poter vedere tutte dove sono e così via. è incredibile. Noi non attiveremo nulla, perché siamo intenzionati a viverlo in maniera standard, e non abbiamo deficit di alcun tipo, per fortuna. Ma... Porca miseria, cioè... Guardate quante opzioni ci sono. Anche voi di YouTube, ragazzi, non so se avete avuto il gioco in casa per poter vedere con i vostri stessi occhi quello che vi sta succedendo, ma... La sintesi vocale che ti attiva la lettura dei testi su schermo. Indicazioni audio al combattimento, al movimento, perché se devi superare un ostacolo, abbassarti, saltare... Fino ad avere dei veri e propri cheat, praticamente, che non sono ancora cheat veri e propri, sono decisamente delle modifiche, però i nemici che non aggirano, la percezione nemica ridotta, l'invisibilità da disteso. Cioè... Wow. Wow. Ok. Abbiamo finito The Last of Us. Cominciamo The Last of Us Part 2. Vi ricordate il finale? Stavano andando a Jackson, dopo un non proprio lieto fine. Non proprio lieto fine. Let's go. Come più. Non proprio lieto fine. elevate la nostra connessione. Grazie a tutti. E dove ci siamo lasciati? Certo, dopo Red Dead Redemption 2 magari fa un po' meno impatto vedere una cosa del genere, soprattutto anche il cavallo che lì è stato studiato in maniera completamente diversa, ma è un gran lavoro. Guardate il paesaggio, ragazzi. Sembra di vivere in un mondo leggermente più pacifico, eh? Si sono sviluppate delle comunità, nonostante in realtà sarebbero già dovute essere più che complete all'interno dei 20 anni passati dopo la pandemia, rimane il fatto che la fedra, i militari e lo stato della vecchia civiltà rimaneva ancora ancorato alle vecchie regole. Qui ormai si è creato qualcosa di nuovo, perlomeno un pochino. Sono chiaramente passati altri anni. E la fauna locale? No more gas. State facendo caso al percorso che ci stanno facendo fare? In qualche modo ci vuole raccontare come il vecchio mondo stia completamente scomparendo. Ma questo lo vedremo tra un po', non oggi. E vi piacerà, secondo me, molto. È una cura della Red Dead Redemption e di quello che è la comunicazione non verbale di un'opera che vi ricorderà il motivo per il quale il mio canale è stato aperto tanti anni fa. Torri di Vedetta. Cancello Est di Wern. Ecco Jackson. Vi ricordate di Tommy? Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba se devo. Guardate le ombre contro luce nella casa davanti. Ci vediamo Tommy. State per vedere una storia molto meno eroica che il primo. Una storia più sporca. Ma con persone. Eccola qui. Oh, guardate, avete visto cosa ha sul braccio? È una copertura che conosciamo anche noi nel nostro mondo. A che serve? A lei. Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. l'altro giorno ero a cavallo con Tommy e... mi ha... detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Joel. Era sugli orologi e... il colmo... Joel, scusa. È tardi e devo... svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo... un secondo. Quante cose state percependo, ragazzi? Quanto ci sarebbe giro da dire? Che cos'è? Beh... Ti presento un'amica, si chiama... chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi... di non ridere. Non riderò. promesso. Mi voglio fidare. Mi voglio fidare. non riderò. Già... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, prima lezione domani sera Ci sto Ok Ok Aspetta E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo È terribile Già Notte piccola Non mangiare il secondo È vera, porca miseria Quattro anni dopo Quattro anni dopo Ehi Buongiorno Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei Siamo in ritardo e torniamo al gameplay Ora, io potrei star qui ad analizzare il fatto che a livello di production value e della qualità del lavoro che hanno prodotto Le corde della chitarra vibravano Le corde della chitarra vibravano E anche viste il rallenty Sono incredibili Oltre al fatto che le dita che le dita erano posizionate correttamente Questo Comunque Non è male Allora Che cosa avete percepito? È stato dolce Ma anche un po' doloroso Probabilmente Ellie è vero Ha creduto a Joel Ma Quasi in maniera Necessaria Non trovate? Ha un dubbio Non sta bene C'è tanto imbarazzo fra loro È successo qualcosa Forse qualcosa che non abbiamo visto Ellie era un po' fredda con lui E lui era Un sessantenne Ho i brividi Era un sessantenne Completamente innamorato di questa bambina A cui vuole bene Che è diventata davvero sua figlia E Con la quale cerca di Riottenere un po' di intimità Un po' di contatto E Non Non sa esattamente come fare Perché comunque non Ellie non è la classica bambina È una bambina nata dopo la pandemia Sta vivendo un tipo di adolescenza Completamente diverso E soprattutto Dopo essere vissuta Consapevole Di Non aver vissuto ciò che ha vissuto Joel Nella sua Di infanzia Di fatto lei non è Davvero sua figlia Ma Anche solo per quella Dedica di canzone La ama Lo è Lei è il motivo Per cui lui Si è riconciliato con la vita È il motivo Per la quale Tess è morta Non puzza A livello estetico è qualcosa di Stravolgente E Questa è la casa Di Ellie Guardate Sono felicissimo di aver condiviso con voi The Last of Us 1 Perché in questo modo possiamo notare tutte quelle piccole cose che spero voi possiate ricordarvi I fumetti I fumetti La sua passione La sua passione Il suo raccoglierli in giro per cercare di un po' distrarsi Guardate Queste non sono case da razziare Non sono case nelle quali trovare oggetti Hanno creato la loro vita Guardate Lei ha palesemente Una cotta per Dina E si potrebbe già intuire chi Dina sia Visti i disegni e la foto Poi abbiamo Saura Il disegno di una falena E altre foto ricordo È casa loro È casa loro Sono le 6 E 39 E lei sul polso aveva qualcosa che serve di solito per coprire Qui abbiamo una Playstation 3 Con Jack and Dexter E direi Uncharted Che cosa guarda Cursed Grave Citizen of the Abyss Imperial Journey Legend Quello è chiaramente Legend of Korra comunque Legend of the Skylands The Tempest Scroll Certo E vorrei farvi notare Una cosa Proseguendo nella stanza Savage Starlight La ricorderete Il giocattolo di È un poster sullo spazio Ok Ovviamente si arma Un pochino preventivo Caricare Scaricare Il carrello Magari non è proprio necessario Ellie Però ok E infine Il bagno Che appunto Come volevo farvi notare Ha la classica Strombettata Coatta Di chi fa i giochi A un certo livello Ossia il riflesso Dello specchio E guardate Questo è un vero bagno Funzionante Non è la rovina Della precedente Civilizzazione C'è una strumenti C'è una costruzione Di nuova tecnologia Per poter avere Sia doccia Che bagno Funzionante E tra l'altro È un modo Anche per lavarsi I vestiti Vedete C'è uno studio Nei confronti Di quello che è successo A Jackson Che è meraviglioso Tutto The Last of Us Parte 2 Ancor più del primo Cerca di diventare Quasi prolisso Nel presentarti le cose Per farti entrare All'interno Di quello che è Il sequel del primo Il nostro fidato Coltello infinito Bentornato Joel è sveglio Hanno avvissato Degli infetti A notte Maria l'ha mandato A vedere contorni Che sfiga Sì Rubito Abbiano dormito molto E devono stare attenti Ai infetti Smettila Stavo per alzarmi Davvero Hai tutto? Sì Ellie rovina i mobili A quanto pare E questa è la sua casa Con elettricità persino Ed è l'alba Riuscite a sentire Le melodie? Preparati Stamattina Sarei sulla bocca Di tutti Perché? Correggimi se sbaglio Hai baciato Dina Mi ha baciata lei Ciò ha spinto Setta A definirti Con una parola spiacevole Certo E Joel l'ha steso L'ha solo spinto Poi te la sei presa con Joel Questa parte non mi torna È stata una serata assurda Guardate un po' Chissà che spasso Peccato essermi a persa State attenti Come sempre Maria vuole parlarti Dov'è adesso? Al ristorante C'entra per caso Sette? Non saprei Dille che non mi hai visto No Ehi da che parte stai? Come scusa? State spettegolando voi qui? Ehi Jesse Stanno Sviluppando un automatismo Per potersi sostenere Che forza L'essere umano Sì c'è una cura Per i micro dettagli Davvero impressionante ragazzi Dallo zaino che si muove Alle piccole spille Che ha sopra Sono curioso Chissà se hanno un significato C'è la shuttle Si ricollega al poster Che aveva nella stanza L aveva parlato Di voler diventare un astronauta Vi ricordate? Ehi Quindi Nessun problema Giusto? Tra noi due? Sì Certo Io e Dina abbiamo chiuso Lo so Ma non vorrei pensarsi che Ellie Nessun problema Giuro Guardate Grazie Questa è vita normale Finalmente Nessun contrabbando Nessuna forma di guerriglia Tra clan O qualche gruppo Criminale La possibilità di poter Dover stare attenti Principalmente agli infetti Piuttosto che ai looter Mamma mia È piacevole Poter vederli così Bambini che giocano Senza che stia per cadere Un meteorite Il che come incipit È già più originale Rispetto Oh Ehi vecchietto Oh mio dio Sì Una bella grattata Oh È vecchissimo Questo cane Insomma Abbiamo una scena Di tranquilla Vita cittadina E si speri Non arriva uno Orda A demolire tutto Vero? Attenzione Sto scherzando Guardalo Vedete? Ci sono cacciatori Che si Cercano di Imprendere utili Facendo Approvvigionamento Di selvaggine Molto west Bisogna anche appunto Considerare dove si Trova Jackson E cosa fosse Inizialmente Cosa hanno costruito Loro E cosa no Tipsy Bison Ok Vuoi fare colazione? No Dov'è Maria? È di là Abbiamo quindi Un inizio Molto simile A The Last of Us 1 Però Senza Fortunatamente Per ora Fortunatamente Per i personaggi Non per noi Noi siamo spettatori A noi ci interessa La storia Che sia tragica O divertente Però per ora Come potete notare Non sta arrivando Qualcosa di apparentemente Distruttivo Che sta per distruggere Le loro vite È un'introduzione Più dolce Senza quello che è successo Al povero Joel 24 anni fa E La La narrativa però È comunque A livello di qualcuno Che magari vuole Soltanto il videogioco Plausibilmente Un po' stucchevole Mi rendo conto Vedremo come e quanto Perché alla fine Di questo viaggio Vi sarete resi conto Di quanto incredibilmente Sì 25 Sì Vabbè sì 20 anni più 4 Ma comunque ci siamo E Fondamentalmente Vedrete quanto Danna da me Di tanto si gioca In The Last of Us Part 2 E io sono rimasto Completamente colpito Da questo Perché non me l'aspettavo E giocando questo inizio Ho pensato D'accordo Sarà bene o male Con lo stesso ritmo del primo Non mi devo Far stancare Da queste passeggiate Perché tra l'altro Sono molto 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 belle E ci sono Determinati giocatori Che li apprezzano tantissimo Scusa No Ellie Una cosa è il gusto Una cosa è l'esecuzione Vi ricordate Maria? Voglia di stare a sentire Quel bigotto Fallo per me Ti prego Dai Ellie Ok Seth Antipatica Seth vieni Lo capisco eh Magari è stata offesa Chiaramente Però Ehi Poverino Senti Ieri sera È solo che Ho bevuto troppo Certo È anziano E voglio chiederti scusa Maria mi diceva Che tu e Dina Siete di pattuglia Io Io ho fatto dei panini Ok Le carne Grazie Seth Già Beh allora Sta attenta Sì Lo apprezzo Ellie Che cosa hai lì? Baguette bigotte Che profumo Sono tua Sicura? Certo Vi accompagno fuori Ok Vabbè E Io mi sento in colpa Perché Allora Io È il panino bigotto Questo esatto È una battuta bellissima Però Il fatto è questo È ovvio Cioè Allora Seth Probabilmente Ha fatto Un'offesa Omofoba Davanti a tutti Dopo che Dina L'ha baciata Deve essere Molto frustrante Deve essere Molto frustrante Frustrante Specialmente per Una Diciotto Diciannovenne Ok Ed Ed Ellie è Molto Molto Pungente Molto Molto Antipatica No? Però Io non lo so Io non Un pochino Lo capisco E sarà stato anche Sgridato a morte Da Maria E tutti Perché Perché Seth È anziano Ha vissuto La pandemia E Magari Non è stato in grado Di cambiare alcune idee Che aveva da più giovane E È scappata Perché era ubriaco E Mi dispiace Perché era così Era così Così Triste Quando gli ha dato il panino È anche vero che ha rischiato il linciaggio da Joel Però Cioè È giusto Che Ellie Non lo tolleri Però aveva un faccino così triste Era così mortificato Quando uscirai Voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel Quei due sono in bello da troppo tempo Eh Dove li trovo Sale all'avamposto di nord-ovest Loro arriveranno in giornata Ma occhi aperti Ormai gli avvistamenti di infetti Non si contano più D'accordo Volevo controllare la zona del torrente Dovrà farlo qualcun altro Ellie Conosci la zona? Non molto Bambini Dina c'è stata spesso Vi manderò insieme Problema risolto Tra l'altro A quanto pare Tommy e Joel Sono fuori da tanto A cercare e combattere infetti So parlarti un secondo Specialmente in un contesto Nel quale la vita È stata semplificata Dover affrontare gli infetti Per tante ore consecutive E non Cioè Era neanche molto giovane Joel Comunque È un uomo forte Ma È un treno Però Ellie È nel peggior periodo possibile Per ricevere consigli Di avere problemi relazionali Capite? Ehi Dina Ecco Dina Posso parlarti? Ehi ragazzi Io devo andare Ma poi torni Ehi Ehi Ehm Volevo scusarmi Per essere scappata Ieri sera Oh È tutto ok Sì Lo capisco Io È che mi sento in colpa Non metterò mai pausa Nel cutscene Questa è praticamente L'ultima volta Prima ed ultima Vi ricordate che Alloy Di Horizon Zero Dawn Jill Di Resident Evil 3 Remake Sono definite Delle cesse Delle cose Inguardabili Per l'essere umano maschile No? Perché altrimenti È terrificante E così via È successo Lo stesso con Dina Io mi farei Bannare da Twitch Se dicessi Cosa penso di Dina A livello Femminile Quindi We leave it At that Ok? Sperando Lara Non mi stia seguendo Non ditele niente Per l'amor del cielo Perché? Perché Ho cominciato io E Insomma Non avrei dovuto Baciarti di fronte a tutti Era ubriaca Succede Beh comunque Non voglio che tu pensi No Non ho pensato niente Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi? Va bene Forse dovremmo andare adesso Non è CG eh? Ai Ma che cavolo Io non sto giocando Te la fai sotto Te la fai sotto Detesto quel muccioso Gli diamo una lezione? Sì Che belle che sono Ve la siate cercate Ok boss fight Non ti scappare stronzetti Merda Nascondiamoci Via Via Ai Il primo punto per Danny Ma il diavolo quelle braccia Ti prendo Ti prendo Teccati questa Au Ti vengo a prendere a casa e ti meno Ti vengo a prendere a casa e ti meno E li sono bambini Ti è piaciuto? Preso Andiamolo Oh no mancato Stritto in faccia Ingoia la neve Merdina Stiamo vincendo? Ingoia la neve Merdina No no Non ti conviene scappare Prendi questa Che male No no Voglio prendere La bambina Ti vedo Non vale Così imparate Piaciuto? Prendila Prendila Questa me la pagate Lasciatela Molto di cattoli Va bene Basta così Abbiamo da fare ora Mamma No Me la sono cercata Sì Andiamo Guardate che belli Gli alberi Che sprecano Elettricità preziosa Jesse Vuole che seguiamo Il torrente Lui sostituirà Joel e Tommy Oh È bello Che ci abbia messo in coppia Ti piacerà Questo percorso Guardate il brillo Della neve Buongiorno ragazze Buongiorno Buongiorno È vero Cioè è proprio vero Ehi ragazze Porto dentro Buongiorno Grazie Rivedremo The Last of Us Part 2 E diremo Raga È su PS4 Un bel po' di fango pulito Spero tu non rompa mai Quegli occhiali da vista Perché altrimenti Sei proprio fottuto Sì Brava Guarda chi c'è Grazie Sì è un gioco del 2020 Raga Esatto Forza Forza Ok Ehi Shimmer Guarda chi è arrivata Sì 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 Uno per te E uno per te Aprite Datemi a sentire Ok Conoscete le regole Seguite il percorso Compilate il registro Sterminate gli infetti Se vi trovate in serio pericolo Rientrate Usate la testa Bene Andate Avete sentito che non si parla mai di looter O di Imboscate Criminate E omicide In questa comunità Perlomeno in questa parte del mondo Il pericolo è diventato solo infetto E fanno delle ronde Per proteggersi da assalti Che potrebbero portare a un'infezione interna E li sarebbero ovviamente Gatti da pelare E queste sono altre persone Ha fatto un incubo Ed è molto importante Che abbia fatto un incubo Ha fatto un incubo 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 Che abbia fatto un incubo Minchia Ragazza Complimenti Ho detto qualcosa No però Digrignavi i denti Dove sei stato? Prendi lo zaino Ti mostro una cosa Fidati E la giochiamo È un personaggio giocabile Subito dopo il prologo Giochiamo Questa Tosta E in realtà Ora vi voglio far vedere una cosa Sperando che non cammini Non camminare Ragazzo No sta camminando Sta per camminare Voglio tirare la modella La foto E lo farò due volte Per discutere Una cosa che ho scoperto E che non voglio affrontare Proprio perché Nell'introduzione di questi video Vi ho detto che non voglio discutere Quello che succede fuori Per ora Ne parleremo mano a mano Che finiscono i capitoli E capiremo come le community Si stanno muovendo Nei confronti Sia appunto Del review bombing Di The Last of Us Part 2 Sia di quello che è Il distacco tra critica E una certa parte Di videogiocatori Che è molto accesa Su internet Perché ricordiamoci Che anche se sono Migliaia e migliaia I giocatori Che si spostano Particolarmente Ferocemente In maniera particolarmente Feroce su internet Sono Un gruppo Molto acceso Ma Chiuso E io ne faccio parte Ovviamente Ne facciamo tutti Parte qui Però Rispetto a videogiochi Che vendono 15 milioni Di copie Capite anche Quanto è Complicato Muoversi veramente In questi numeri Tuttavia Se noi Zoomiamo un po' Volevo farvi vedere Il volto Di questo NPC Io ho scoperto Nei vari Poste Polemiche Urla E tiri Delle feci Che fanno le persone Fra di loro Perché si fanno La guerra appunto Tra i dieci Gli zero Gna 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 Ci sono persone Che a causa Dei leak E dei meme Hanno cominciato A sparpagliare In giro Io non ne avevo idea Non ne avevo idea Che Druckmann Il regista Che non Necessariamente Penso sia una persona Simpatica Però Molti Molti artisti Non lo sono Anzi Anzi Si sia Inserito Come modello Nel gioco Alla Kojima Perché egocentrico E per altri motivi Che poi discuteremo Lo dicono Di due personaggi Completamente diversi E di etnie diverse Uno dei quali È lui Che non c'entra niente Perché Druckmann È Anche molto Ebreo Per dire Cioè No Questo è uno Vi farò vedere l'altro Che è Messicano L'altro personaggio Che loro dicono Essere Druckmann Perché non si stanno A mettere d'accordo Non sono riusciti A capire Non sono riusciti A capire Chi dei due Doveva essere Il personaggio Che lui si è Di cui lui Si è preso identità Sì sì Lui ha proprio Tratti Esatto Druckmann È visibile È chiaramente L'etnia di Druckmann È chiarissima Quando lo vede Ha un'estetica forte Ha dei tratti somatici Importante Ma nemmeno le orecchie Di questo personaggio Sono simili A quelle di Druckmann Quindi La cosa che mi fa impazzire È che questi qua Litigano Spalando un sacco di merda Sul fatto che lui Si sia inserito Tra le altre cose Per carità Nei personaggi E non sanno Indovinare quale sia E lo dicono di due Di etnia diversa Entrambe diverse Da quelle di Druckmann E sono Irriconoscibili Detto questo Esattamente come in The Last of Us Giochiamo Sarah All'inizio E poi Ellie All'inverno Qui stavolta Nel prologo Iniziamo con Joel Ci spostiamo ad Ellie E Non so per quale motivo Non si sa per quale motivo Stavo facendo l'errore Di rispondere ai ragazzi Ho deciso di In pausa lo facciamo ai ragazzi Promesso Questo Nuovissimo personaggio Che non sappiamo Esattamente dove si trovi E che è Incredibilmente Atipico Ed è quello Che da Elick Questo posso dirvelo Era stato definito Lui vuole fargli No non possiamo Lui vuole farle una sorpresa Non puoi dirmelo e basta Questa devi vederla Loro Stanno uscendo Perché lui vuole farle Vedere una sorpresa Qui La gente aveva Fatto polemica Perché Si diceva che fosse Trasgender Quando non lo è Poi al di là Che sia giustificabile O meno fare polemica Perché lo sia È la questione classica Del gaming Di quello che sta accadendo In America e così via Ma non ne parliamo qui Però Lei comunque Posso confermarvelo Perché magari Non polemiziate in chat Non lo è È semplicemente Una donna molto allenata Che però Effettivamente qualcuno Che si allena potrebbe dire Ma strano Una donna Che si allena Comunque Semplicemente Facendo duro lavoro In questo mondo Non dovrebbe poter diventare Così Tost Deve per forza Avere qualche tipo Di palestra In effetti Altrimenti Sarebbe strano E gli NPC Se tu non li raggiungi Tornano indietro Esatto Guardate che meraviglia La classica Aria da neve Esatto Perché vieni qui Da solo In mezzo al nulla È una donna Molto allenata E addestra Sono inquieto È una combattente Evidentemente Più ci spingiamo A sud Più migliora Pare Vuoi proseguire Pensi di scendere Fino in Messico Ci ho pensato C'è anche La città di Manny Sì Dubito Possa reggere Le sue storie Sì No Forse no Di qua Ragazzi abbiamo appena visto Una strettoia Non lenta E non di caricamento Ecco il tutorial Guardate la foschia E per chi sta guardando Su Youtube Sì Forza Vedete Questo è il percorso Che ha fatto lui prima Perché ci voleva Far vedere Questa sorpresa E Per chi sta guardando Su Youtube Ogni tanto interagirò Un po' di più Con la chat Rispetto ai piani Durante la blind Sì la blind Durante l'analisi Di Telastrovas parte 1 Perché appunto Ho preso questa decisione In base a quello che sta succedendo Anche fuori Intorno al prodotto E intorno all'opera Su internet Quindi mi dispiace Se sarò Meno intimo con voi Ma spero di potervi Trasmettere comunque Una stupenda via di mezzo Stiamo quindi scoprendo O Continuiamo così Oggi sarà duro Affrontare il viaggio Non è lontano O la storia Di un personaggio Sembra fuori di seda Qualche giorno Se la caverà Che duri poco Non mi piace Non sono strano O uno dei protagonisti Potremmo star vedendo Una storia Come quella di Bill Come quella di Sam Per esempio Solo che la giocavo In prima persona Di un gruppo Che verrà in qualche modo Attaccato Oppure Stiamo presentandoci Stanno presentandoci Un personaggio importante Guardate il cappellino Guardate che meraviglia Queste cose Sembrano diapositive Attenzione quando salti Sappiate che pad alla mano Specialmente quando Cominceremo a giocare davvero Il gunplay E il movimento È talmente più fluido Che in The Last of Us Ti piacerebbe? Avrei già dato Grazie Non siamo tutti Aggraziati come te Chiaro Ma cosa Te la caverai È troppo alto Andiamo Guardate Guardami Edby Ci stanno chiedendo Il loro rapporto E il fatto che Abbie abbia Vertigine Guardatela È un modo Per esorcizzare Le paure Soffre di vertigine Abbie Adulatrice Ah e lo so Che molto probabilmente Tantissimi Che discutono appunto Di Aloy Cesso Gil Cesso Dina Cesso Hanno una certa età Immagino Spero Penso Che sia solo una speranza Però insomma Al di là di tutto Io ve lo posso dire Io Per i miei gusti Non trovo Questa ragazza attraente Ma è una cosa Molto culturale E personale Io non la trovo attraente Ma non perché Oggettivamente Non lo sia Stiamo attenti Perché Ci sono Tante 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 piccole cose Specialmente in culture Diverse Eccetera Che potrebbero dirvi Ma che sei scemo Quelle Non sono attraenti Questa invece Sì cazzo E ci starebbe Assolutamente E guardate Un po' la luce Che non ho mai Acceso fino ad ora Come l'hanno Reso Come l'hanno Resa Persino con L'arcobaleno Prismatico Che si incrocia Diamante Questo c'era Questo c'era anche Nell'uno Però Porca miseria No Ha un viso Molto dolce Questa ragazza Molto dolce Però Vive in questo mondo E per qualche ragione Si allena Che sia per combattere Per il proprio Gusto personale O per altri O per altri mille motivi Ci siamo Si è qui Porca merda È Jackson È una città Cazzo L'hanno trovata Già A quanto pare Casualmente O forse no L'hai detto a qualcuno Volevo fossi la prima Uomini armati Sono andati A un avamposto Laggiù Ci sono altre postazioni Nel mezzo Hanno Elettricità Armi Sono davvero in tanti Troveremo un modo Ok Ammesso sia qui Come lo troviamo? Possiamo Catturare una pattuglia Farla parlare Poi Non lo so Gli tendiamo una trappola Già Ok Sono certo Che vuoteranno subito Il sacco Sì Li convinceremo Ma ti ascolti Questa cosa è fantastica Ok il tuo chieno? È fantastica Che cosa ti succede? Ma lei è incinta Ok Ma non è solo questo Dovrei congratularmi Quando vedranno la città Si tireranno indietro Li convinceremo Giusto Cazzo Sapevo di non potermi fidare Abby Voglio quello che vuoi tu Ma non ad ogni costo E Fermo Ti aspetto alla barita I capelli Così difficili da realizzare Bel fuorifuoco Fa il culo Lo so che abbiamo riso tutti Pensando al fatto che Atterrando avrebbe fatto Una cosa alla Hulk Però smettiamola Facciamo i grandi Per favore Allora Che cosa Abbiamo capito Da questo dialogo E da questi occhi Da questi Momenti Che probabilmente Lei e lui Avevano qualcosa E lui adesso sta con un'altra E l'ha messa incinta Cioè Il C'è qualcosa Che L'ha veramente infastidita Nello scoprire Che questa Mel È incinta Però allo stesso tempo Allo stesso tempo Loro sono qui Forse Non aspettandosi Di trovare Jackson Ma cercando un accampamento Stanno cercando qualcuno Stanno cercando qualcuno E lei è talmente determinata A farlo Da voler Arrivare persino A far parlare Una pattuglia E' una cosa Abbastanza Nuova Per Jackson Ed è Decisamente Dura Per questo ragazzo Non l'ha quasi riconosciuta L'ha vista In maniera abbastanza Ossessionata Probabilmente Si potrebbe dire Che forse Parte degli incubi Ed il suo bruxismo Deriva da questo Ecco Percepite Come Prendersi il tempo Di fare alcune cutscene Permetta di avere Un approfondimento Anche silenzioso Prima che le cose Vengano esposte Il concetto stesso Del bruxismo Che questa ragazza Ha avuto E che ha preoccupato Il ragazzone È un arrivo Però Non si aspettavano Che ci fosse Jackson E in qualche modo Qualunque fosse Il loro obiettivo La sorpresa Del signor Otto Dovrebbe Sperava Portasse A un Lasciamo perdere Perché qua Ci ammazzano Non sembrano Essere looter Perché cercano Qualcuno Trovarlo Non trovarla Potrebbe essere Anche un oggetto Però Non siamo In quel tipo Di storia Potremmo Presumere Che non ci siano Determinati tesori O oggetti preziosi Da ricercare O da collezionare Sarebbe una cosa Molto da Uncharted No? Non me ne frega un cazzo Io non ho bisogno Di nessuno Appunto Avete capito Quanto sono Precisi questi dialoghi Tra lei e lei? Ci è rimasta male È abbastanza dolce Perché ci è veramente Rimasta male Ci è veramente Rimasta male Il rumore dei lami Avete sentito Il rumore dei rami Il rumore dei rami Sembrava quasi Volerti far spaventare Che ci fosse Un clicker vicino Alla prossima Alla prossima Alla prossima È un sacco È un sacco vero Che parli tra sé Perché sta sfogando Non lo so A me sembra che Sembra che le venga Da piangere comunque C'è proprio rimasta male Si è anche Messa Magari per la neve Però si è messa Non lo so Poverino Mi sono rimasta male Per lei Merda Oh Sei vivo Questi C'è questo ragionamento I runner Sono comunque Esseri umani Per quanto infetti E non hanno la possibilità Di sopravvivere A certe temperature A lungo Specialmente Se poi magari Cadono Non riescono più Ad alzarsi Questi molto probabilmente Sono runner Morte Decisamente Una piccola orda di runner Ci è andata bene Sono piccole orde di runner Guardate Ora è ancora più palese Quanto mi piace Il modo in cui Certe cose Vengono esposte Progressivamente Jackson Non è una persona Ragazzi È la cittadina Oh cazzo Quello era Ancora più palesemente Un runner Che è caduto O si è incastrato Non è una persona Oh cavolo. Abbiamo solo due colpi. Mi piace moltissimo come questa presentazione dei runner è una delle cose preferite che ho di The Last of Us 2. Specialmente se non manchi rovinosamente i colpi. Io in blind ho fatto due headshot perfetti. Perché è talmente realistico. E finalmente arrivare in melee non diventa una sconfitta. Ti permette di gestirtela. Sentite anche Lost. Oh non c'ho colto una volta. Però lei non ne ha bisogno. Si è fatta male E mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere quanto è bello il gunplay Perché in realtà In realtà potrei farlo In realtà potrei farlo Ovviamente Abby non ha fatto esplodere la testa solo per la sua forza fisica Ma perché probabilmente era un po' marcia Voglio farvi vedere che cosa accade quando colpisce anche alla testa qualcuno Perché è veramente Per chi è blind una bella cosa da vedere Il controller è più importante Il controller alla mano ha la sensazione migliore Però Vediamo se riesco a prenderla Non so se vi ha fatto vedere Non so se avete percepito la fluidità di quello che è successo È veramente figo Specialmente se sono lontani Guardate il sangue sulla neve Che fortuna Non tutti i mali sono venuti per nuocere Perché E guardate la neve che si scioglie Il sangue che scioglie la neve Guardate Che spettacolo Porca miseria Sono felice di avervi fatto vedere sia il Il melee Che i gunshot Per fortuna ci ho preso la seconda volta Una delle cose più brutte di The Last of Us Penso che converterete con me Era proprio l'effetto posse di sangue alla Resident Evil 2 Qui invece è tutto incredibilmente fotorealistico È veramente molto bello Poi ovviamente Devo salire di più Anche gli avversari umani finiscono Per morire con tre cazzotti Per carità Però questo è un classico Che non è difficile superare Se vuoi un gameplay Tale Vedremo in futuro Questa È la prima volta Che siamo all'interno di un ambiente Fuori dalla storyline Solo passeggiata Da questo momento in poi Vorrei che voi faceste attenzione A quanta varietà A quanta varietà e realismo c'è The Last of Us era speciale in questo The Last of Us parte 2 È un esponente E sì Il fatto che si fasci il braccio Con i vestiti sopra È una roba che ci sarà per tutto The Last of Us parte 2 Che è buffissima Però Mi sento molto meglio adesso È un senso È un senso ragazzi È ovviamente il gameplay Vi ricordo che in The Last of Us Ci prendiamo le pillole E sblocchiamo abilità E con Bulloni Costruiamo ottiche per fucili Sapete che io quasi quasi Come esco da qui Coperte Lo dico Una volta Ora che siamo in tanti Per tutte E chiedo a chi è in chat Ora di rispondere a chiunque abbia dei dubbi Facendo l'effigie Non ho potuto fare la blind run Perché per fare entrambe Per fare la blind run Di The Last of Us parte 2 Avrei dovuto impiegare Un mese Di registrazione Un mese E questo avrebbe fatto sì Che l'anima oscura 3 Cominciava a ottobre Praticamente Purtroppo non posso fare tutto quello che voglio E so che ho contenuti molto diversi Ma A volte bisogna dare delle priorità Perché tutto non si può fare Salvo deludere qualcuno Sempre Abbiamo già molte Più opportunità di gameplay Grazie al poter strisciare Ragazzi Schivare e strisciare Saltare no Non più di tanto Ma schivare e strisciare Sono veramente delle cose Che ti permettono di avere un gameplay Molto più vario Schifata e infastidita Schifata e infastidita Oltre che tesa Esplorerò Esplorerò tanto Esatto Lo gioco comunque con voi E lo analizzerò Oltre al fatto che ovviamente Le emozioni saranno quelle Solo la sorpresa Cosa mancherà C'è Fenrir Non ditele nulla Vedete Siamo Usciti Da quelle che sono le fondamenta Dell'edificio E volendo Si può facilmente proseguire Oppure Continuare a esplorare Perché questa è una stanza Che A pensare no Nella mappa 3D In realtà non l'abbiamo visto Accidenti Che disastro Ecco la mia run The last of us party 2 ragazzi Anche in nome del fatto Che la facciamo Molto lenta e completa Sarà tutta così Non si correrà E tutti i fogli Come anche nell'uno Qui però Ancor più 3D Perché prima erano Praticamente dei disegni Sono leggibili E io nella mia blind run Li ho letti tutti Senza A aprire il testo Perché mi piaceva Bello no? A chiunque lo legga Mi chiamo Seth Vengo da San Francisco E sto cercando Di raggiungere Jackson Insieme ai miei due figli Abbiamo perso l'auto La bussola Le armi Siamo stati aggrediti Fuori Rena Mia moglie Mio figlio maggiore Sono morti Ho provato a seguire le mappe Ma la neve ci impedisce Di restare sulla strada Speravo di attendere Il passaggio della bufera Ma i miei ragazzi Muoiono di fame Non posso restarmi Nel febbre Ma guardarli spegnersi Ci muoviamo Oh no? Ah West Nord Ah Oh no è Ovest Nord Ovest Ok Ho sentito degli spari Provenire da quella direzione Oltre la dorsale Spero di incontrare qualcuno Spero sia brava gente Il fatto che qua Lui abbia lasciato un foglio Ehm Da E dato delle indicazioni E' una bellissima Contestualizzazione Del motivo Per cui questo foglio esiste Non sempre è esistito Nel precedente Dell'Astovas E nei giochi del genere Qui è veramente Molto molto bellino Lui sperava Che bene o male Qualcuno in caso L'avrebbe aiutato Ti prego Se stai leggendo questo messaggio Vieni a cercarci Credo sia mercoledì Dio ti benedica E lei ovviamente Non conosce Seth Seth Ma noi Sì Non lo so Avremo molto di cui Discutere di questo Videogioco secondo me Specialmente visto Quello che c'è fuori Ma E' incredibile Non avete idea Di quante ore Di quante ore Di gioco macchio E questo lo dirò Almeno altre tre volte Nella run Anche se per ora E' vero Stiamo camminando Moltissimo Eccoci qua Eccoci qua L'espressione di Ebbe E' vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molti cassetti e zone sono vuote perché stiamo giocando a difficile. Cazzo, mi sono persa. Attenzione. Attenzione. Merda! Possiamo fare molto meno gli splendidi edifici, specialmente senza risorse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abby fa effettivamente una cosa abbastanza pericolosa, ma con grande competenza. Lei non mette la mano davanti alla bocca, il braccio davanti alla bocca rischiando il morso. Fa passare il braccio per lo strangolamento in maniera abbastanza attenta, ma è chiaramente comunque rischioso. E' giocare col fuoco, ma è giocare col fuoco da una persona che ha una chiara consapevolezza di quello che fa. E' giocare col fuoco da una cosa abbastanza attenta, ma è giocare col fuoco. Una cosa che un po' dispiace per quanto sia molto molto precisa è che c'è solo una annazione di uccisione silenziosa più un'altra che si sblocca più in là. Il tempo peggiora... Dov'è la strada? Il tempo peggiora... Il tempo peggiora... Il tempo peggiora... Ormi di cavalli Dov'è la pattuglia? Porca miseria Stiamo tornando Alle nostre altre protagoniste Andiamo? Di qua Ti sto dietro Magari C'è ancora Fender in chat, no? Ok Ehm Allora Qui Chiudiamo Il primo episodio di The Last of Us 2 E vi evidenzio una cosa Che alcuni di voi avranno notato E che discuteremo anche in passato Un piccolo dettaglio che trovo stranamente impreciso in The Last of Us 2 Nel flashback E nel ricordo Il racconto di Joel Il dottore è completamente diverso Da quello di The Last of Us 1 Che tra l'altro era di colore Qui invece è caucasico Ed è semplicemente la parte 2 Non la parte 7 Quindi è proprio strano avere questo tipo di incoerenza Questo piccolo errore espositivo Ne parleremo in passato E sì Siamo ancora nel tutorial Sì Assolutamente ancora nel tutorial Signori Penso che Ah ne permetto Ho detto che ne parleremo Sono stanco Ne parleremo in futuro Perché stavo pensando ai flashback Quindi Questo è soltanto un inizio E sarà tutto fatto con molta calma Ma già domani Lo proseguiremo E mi farà un gran bene affrontarlo con voi Sarà stupendo interagire insieme Per quanto ovviamente In maniera molto minore Più silenziosa Rispetto a quello che è effettivamente Un'esperienza classica su Twitch La priorità Sarà lo schermo E il mio dialogo con voi Ogni tanto Mi sposterò A darvi attenzione Che è tutto quello che meritate Rispondendo e discutendo insieme Stasera Alle 21.30 DLC di Pokémon E Chef Pippo Xenos Subaru Delia Benvenuti a voi Grazie dei beat E Delia Grazie del dono Chissà che io non possa stupirti A riguardo Occhiolino Meritato Nico Grazie anche a te del dono Grazie ragazzi Xalux Tom Riddle Dado Fem Tanux Jack Raiden Duvu Grazie di cuore a tutti E anche a te Zagaro di nuovo Beh Alla prossima Alla prossima A tra poco A più tardi Alla prossima